John Borno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Adesso è ufficiale, Brock Lesnar batte il record di CM Punk come campione più longevo della storia della WWE. Io sinceramente l'ho vista come una cazzata, se posso permettermi. Cioè, allora no, io premettiamo una cosa, io ho un pensiero molto particolare rispetto a tutti gli altri fan di wrestling su CM Punk. Perché io credo che CM Punk, io non sono uno di quelli che diceva, oh quando torna CM Punk, quando torna, ma frega niente, spero non torni sinceramente. Perché? Perché a quell'età che aveva, con la poca esperienza in WWE, che aveva era il campione più longevo della WWE, quasi sempre nei main event di ogni pay per view. Presenza fissa, campione, main eventer, aveva tutto ciò che un wrestler della WWE sogna di avere, un wrestler che sogna di entrare nella WWE, sogna di avere. E aveva tutto ragazzi, tutto, 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 se ne ha voluto fare sta sparata, se ne ha voluto andare perché pena cazzata, ha fatto bene, ha fatto bene. Ciao, adesso è lì a prendere i schiaffi. Quindi io penso che su CM Punk ci sia veramente nulla da dire. Cosa c'è da dire però? Su Brock Lesnar. Cioè ragazzi, allora, andate da lui, giustamente, perché poi è, cioè, cerchiamo di capirci, è un brand. Quindi io non posso tenere al record del brand un tizio che è campione, più longevo, che se ne è andato così da punto in bianco. Non posso, e io lo accetto. Ci sta, lo capisco. Che cos'è però che non capisco? Che cos'è che non mi va a genio? Il fatto che abbiano dato il titolo ad uno che non ha combattuto mai. Cioè anche quando si racconterà tipo tra vent'anni, facciamo tra vent'anni, no? Tra vent'anni Brock Lesnar deterrà ancora il titolo del campione più longevo. Può capitare, eh? Dubito. Ma può capitare, perché alla fine l'ha tenuto per un anno e mezzo, quindi, eh, insomma, non è, non è, non è, non è poco, non è poco fa una cosa. Fa da vent'anni a questo un anno e mezzo, non è così che funziona. Quindi ci sta. Ma tanto, anche tra un anno e mezzo, si ricorderanno del, del, del regno del campione che tenne il titolo difendendo una volta ogni tre mesi, quattro mesi. Una volta ogni Royal Rumble, ma nemmeno in realtà, Royal Rumble, SummerSlam, Survivor Series e Wrestlemania. Mi sembra inutile, a me mi sembra una stronzata. Cioè la mossa della WWE è sbagliata, è giusta, se guardiamo poi il punto di vista del voler togliere il record ad uno che ha trattato da pesci in faccia. Ingiustamente la WWE, secondo me. Però non è, non è, non è corretta nel modo in cui è avvenuta. Cioè ragazzi, noi Brock Lesnar l'abbiamo visto con il contagocce. Io me lo sarei tenuto nel roster come part-timer, ma per fargli fare le file quelle grosse, senza titolo. Cioè che senso ha avuto tutto questo? Un anno e mezzo di titolo a Brock Lesnar senza che lo vediamo mai. Che senso ha avuto? A me mi sembra una stronzata. Io non so voi.